Nelle scorse ore i principali siti americani di wrestling hanno diffuso diversi rumor sui match di Survivor Series. Ora ve li dico, voi però ricordatevi che per il momento sono solo voci di corridoio. Innanzitutto, la battaglia tra il Judgment Day e i nemici della fazione potrebbe diventare un 5 contro 5. La WWE la starebbe preparando da mesi con il passaggio di Drew McIntyre tra le fila del gruppo di Rhea Ripley e il rientro in scena dalla parte dei buoni di Randy Orton presentato a sorpresa nelle settimane prima dello show. Quindi, teoricamente, dovrebbe palesarsi a breve. E non durante, per evitare che il pubblico si aspetti la comparsa di CM Punk. Sul lato femminile sembra ormai chiaro, invece, che i War Games coinvolgeranno le nuove Damage Control e le loro oppositrici, guidate da Bianca Belair. A questo scenario dovrebbero presto unirsi altre protagoniste. E sembra che la WWE stia studiando come inserirvi pure Becky Lynch, malgrado sia del roster opposto a quello in cui la storia si è sviluppata. Anche Jade Cargill potrebbe essere della partita, ma su quest'atleta ci sono rumor un po' contraddittori che si smentiscono a vicenda.